se sta accadendo a te se sta accadendo proprio a te in questo istante allora è per te vedi io credo fermamente in questo credo fermamente che noi abbiamo un potere creativo dentro di noi enorme e che quello che accade quotidianamente nella nostra vita sia un po il riflesso di questo potere creativo di questa nostra capacità di creare intorno a noi la realtà per noi importante da vivere ora mi direi tu ma io credo anche le cose negative ma certo che a un livello di coscienza questo non accade a un livello di consapevolezza nessuno sceglie di trovarsi nelle difficoltà tipicamente però vedi io penso che quello che accade comprese le difficoltà in realtà siano delle opportunità siano delle occasioni siano dei punti di svolta siano dei punti limiti che se valicati ci permettono di acquisire nuove competenze nuove conoscenze nuove capacità allora ti invito a fare questa riflessione anziché percepire tutto quello che ti accade di negativo ad esempio come qualcosa di di alieno che non che non ti dovrebbe accadere di di così prova a valutare invece come qualcosa di perfetto per te se accade per te è per te prova a valutare le cose che ti accadono esattamente in questo modo domandandoti quindi non tanto ma perché sono così sfortunato ma domandati invece perché sta accadendo proprio ora in questo momento qual è la lezione l'insegnamento l'apprendimento che in qualche modo la vita ti sta chiamando ad apprendere a sviluppare a far crescere dentro di te se riuscirai a sviluppare questo approccio alla vita questa visione della vita questo modo di percepirle di sentirla allora naturalmente in te cambieranno una serie di cose fra cui da quella tendenza lamentarti o entrare un po in conflitto per quella che che vivi quotidianamente una tendenza invece a voler esplorare voler capire voler indagare quali sono veramente le questioni importanti nella tua vita per cui ecco ti suggerisco di lavorare molto su questo di cercare davvero di domandarti costantemente perché accade a me perché questa sensazione questa emozione questo vissuto perché questa situazione allora ecco più fare questo più naturalmente riuscirai a comprendere quali sono le leve che muovono le tue armi